Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Minaccia la madre e aggredisce il patrigno per denaro in manette un pesarese di 52 anni Chi possiede un'arma deve presentare un certificato medico entro il 5 maggio prossimi Domani Giorgia Chiare a Baldarelli, studentessa affiancherà il sindaco Seri per tutto il giorno e parteciperà anche al programma di Fano TV Primo Cittadino Buonasera cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a Occhio alla Notizia Un uomo di 52 anni di peso è stato arrestato per aver aggredito e rapinato il suo patrigno Vediamo tutti i particolari nel servizio di Simona Zonghetti Aggredisce il padre acquisito di 74 anni per denaro e finisce in manette con l'accusa di sequestro di persona rapina, lesioni lieve e violazione di domicilio Protagonista della vicenda Un 52enne di Pesaro arrestato dalla polizia che aveva ricevuto la denuncia da parte dell'anziano il 4 aprile scorso Il 52enne era appena tornato da Cuba e per una mancanza di soldi dopo il viaggio è andato a bussare alla porta della madre La donna che ha 70 anni si accorta subito che il figlio aveva poca intenzione di abbracciarla e festeggiare Infatti è andato subito al sodo chiedendo denaro sia a lei che al suo compagno Ma lì si è accesa una discussione Agli agenti che hanno ricostruito i fatti Il pensionato aveva raccontato che rientrando in casa era stato avvicinato dal figlio con il quale da tempo aveva rapporti tesi Il 52enne dopo avergli chiesto con modi bruschi del denaro al suo rifiuto lo aveva aggredito Gettandolo a terra e procurandogli delle abrasioni fra cui anche una lieve fierita una mano Poi gli aveva sottratto dal portafogli 200 euro in contanti e non soddisfatto dell'entità della somma Lo aveva costretto a salire sulla sua auto e a raggiungere uno sportello banco Ma dove dopo avergli estorto il PIN aveva fatto un prelievo di 500 euro Infine prima di lasciarlo libero lo aveva costretto a sottoscrivere una dichiarazione Con la quale il 74enne si impegnava a versargli entro pochi giorni 5000 euro Nonché a corrispondergli mensilmente 1000 euro per 7 anni per il suo sostentamento Prima di andarsene l'uomo aveva preso le carte di credito della vittima E le aveva intimato di non denunciare l'accaduto Gli agenti hanno trovato l'aggressore in una cantina di proprietà del patrigno Nello stesso condominio in cui l'anziano abita Dove si era sistemato alla meno peggio essendo senza casa Assolutamente situazioni del genere sono da condannare, da reprimere Insomma anche un messaggio a persone che si trovino nella stessa situazione Che non è assolutamente una soluzione Questa pur in un momento così difficile Andare contro la norma, contro la propria famiglia Utilizzando metodi estremi, assolutamente non compatibili, non confacenti A un affetto familiare, a una vita familiare L'uomo che alla vista dei poliziotti non ha opposto a resistenza E' stato arrestato e portato nel carcere di Villa Fastigi Mentre la rifurtiva è stata riconsegnata al proprietario E continuiamo a parlare ancora di cronaca E' stata sgominata dalla polizia la banda delle rapine a mano armata Ai supermercati nelle prime ore dell'alba La polizia di stato di Rimini ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare Nei confronti di otto pregiudicati italiani Il gruppo è ritenuto responsabile di tre rapine a supermercati nel riminese Una a Iesi ed una all'ufficio postale di Caselle Torinese E tredici furti in appartamento tra Rimini, Pesaro, Forlì e Dasti Sono stati celebrati oggi pomeriggio alle ore 16 Nella chiesa di San Paolo di San Pio X a Fano I funerali di Silvia Gadani L'architetto fanese di 41 anni Trovato morto impiccato da un albero nel quartiere Prati a Roma Mercoledì scorso intorno alle ore 2 di notte La donna aveva litigato col suo fidenzato E probabilmente in un momento di profondo sconforto Si è tolta la vita All'eseque erano presenti oltre ai parenti Numerosi amici e conoscenti Tra i quali i volontari delle associazioni animalisti Di cui Silvia faceva parte in maniera attiva A celebrare il rito funebre è stato il parroco Don Giovanni Frausini E' morto all'età di 88 anni L'ex consigliere provinciale di Pesaro Alfideo Mili Storico dirigente del Partito Comunista Italiano Degli anni della liberazione Perdiamo un uomo che si è rivolto interamente All'impegno civile e alla lotta per la democrazia e i diritti Ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Lascia in eredità il suo esempio alle nuove generazioni La camera ardente di Mili sarà allestita domani alle ore 16 Nella sede della provincia di Pesaro e Urbino In viale Gramsci 4 E novità per chi possiede un'arma Perché c'è una nuova norma Che impone l'obbligo di presentare una certificazione medica Entro il prossimo 5 maggio Vediamo nel servizio i termini e le date di questa questione Una recente normativa in materia di armi Ha introdotto una novità in tema di controlli e di sicurezza In particolare è stata prevista un'importante scadenza Per i detentori di armi e anche ereditate Che riguarda solo nella provincia di Pesaro e Urbino Alcune migliaia di persone Infatti tutti i detentori Ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto Il rilascio o il rinnovo di un titolo di polizia In data successiva Al 5 novembre 2007 Sono tenuti a portare entro il 5 maggio 2015 Un certificato rilasciato dal medico provinciale O dall'ufficio sanitario O da un medico militare Dal quale risulti che non sia effetti da malattie mentali Oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente La capacità di intendere e di volere Coloro che vorranno richiedere la certificazione Rilasciata dall'Asur o da un altro medico abilitato Potranno recarsi nelle sedi dei distretti sanitari di Fano Pesaro e Urbino Muniti di un documento di identità valido Un certificato anamnestico del medico curante E una marca da bollo da 16 euro Qualora entro il 5 maggio Il detentore di armi non provveda Quanto imposto dalla legge Verrà invitato dalla questura Ad effettuare la certificazione entro 30 giorni Ma se non verrà fatto Verrà segnalato alla prefettura Il prefetto emanerà poi Un provvedimento Di divieto di detenzione arma A seguito del quale entro 150 giorni Il detentore dovrà disfarsi dell'arma In che modo? Ci sono varie possibilità O l'arma può essere venduta a un'armeria O a un altro utente che ne abbia titolo per possederla O altrimenti può essere chiesto Alle singoli uffici di polizia Quindi parlo anche delle singole stazioni carabinieri Di rottamare l'arma Senza costi Se l'arma ha un particolare valore affettivo Invece dovrà essere modificata da un armaiolo In modo tale che non possa più sparare Ma allo stesso tempo potrà essere utilizzata come soprammobile Bisognerà comunque fare una richiesta alla questura E attendere nulla ossa della sovrintendenza Si ricorda inoltre che gli uffici competenti A ricevere la certificazione Sono la questura per il territorio del comune di Pesaro I commissariati di polizia di Fanno Urbino Per i rispettivi comuni E i comandanti di stazione dell'arma Dei carabinieri per i restanti territori di competenza Per ulteriori informazioni È possibile recarsi allo sportello dedicato Della questura di Pesaro Urbino Aperto nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì E vigili del fuoco in azione Per un incendio che è divampato ieri sera Nella lavanderia Self Service Bianco e nero In via Nazario Sauro a Fanno Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22.30 A causa del surriscaldamento di una delle lavatrici A dare l'allarme è stata una signora Che abita al piano superiore dello stabile Che ha sentito un forte odore di bruciato Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Fanno Che è riuscita a domare il rogo Prima che arrivasse agli impianti della struttura Al momento dell'incendio non erano presenti clienti Politica Il gruppo dei Verdi ha presentato in consiglio regionale Un progetto preliminare per il ripristino Della tratta ferroviaria Fanno-Urbino Che potrà essere percorsa in soli 45-60 minuti Il costo dell'intervento è di 80 milioni di euro Con un apporto di utenza potenziale di 5.000 persone Il progetto che prevede fermate turistiche Nei punti di rilievo storico-artistico Verrà consegnato gratuitamente alla collettività E alle amministrazioni sabato 11 aprile Durante un convegno organizzato al collegio Raffaello di Urbino E parliamo del cibo e del cibo della legalità Che è il tema della nona edizione di Corto e Mangiato Un concorso di cortometraggi Cortometraggi basato sul rispetto dell'ambiente e delle regole democratiche Vediamo il servizio È un'iniziativa rivolta a tutte le scuole di ogni ordine grado Ai filmmaker e alle associazioni culturali Con l'obiettivo di produrre un videospot di pochi minuti Oppure un cortometraggio sulla legalità del cibo Sono stati circa 50 i lavori pervenuti quest'anno Alla non edizione di Corto e Mangiato Opere selezionate poi da 60 studenti Dell'istituto alberghiero promotore del festival Insieme all'associazione culturale ambasciatore territoriale Dell'enogastronomia Giro Lomoni oltre il biologico Montebello e il comune di Isola del Piano Quest'anno l'evento ha come il tema il cibo della legalità Perché come ha riferito il dirigente scolastico Dell'istituto Santa Marta Le nuove generazioni devono sapere Che il settore alimentare è infiltrato Dalle organizzazioni criminali In tutte le fasi della filiera Dalla produzione al trasporto Dalla distribuzione allo smercio E le vittime sono le persone In termini di salute e denaro E' nostro obiettivo prioritario Formare dei giovani Quindi dei ragazzi e delle ragazze Che domani intraprendendo nel settore dell'alimentazione Siano in grado di rispettare gli standard Di una buona alimentazione Ripeto, Ippocrate diceva Il cibo è la medicina del tuo corpo E' necessaria quindi una sana alimentazione Questo è un obiettivo primario Per una scuola che si basa sulla qualità E sulla trasformazione dei prodotti Consapevolezza maturata da anni Anche a Isola del Piano Con l'assegnazione del bene confiscato Alla criminalità organizzata Basta leggere il libro che ha scritto Luca Ponzi Cibo criminale Per capire che Ci sono grosse infiltrazioni mafiose Ogni italiano ha un convitato di pietra Che è la mafia Cioè siamo in quattro Apparecchia per cinque Perché il quinto convitato è invisibile Ma è la mafia È un mercato che fa gola No? Che fa gola E la mafia sicuramente Già da tempo ci ha messo le mani Cibo bio, eco e giusto Sono anche le parole chiave Della cooperativa Gino Girolomoni Eco, giusto eccetera Ha a che fare con delle leggi Che si sono dati nella comunità Le persone per dire Le cose devono essere fatte Secondo certi criteri Entro certe norme Entro certi limiti L'opera vincente di corto e mangiato Realizzata dai privati Si aggiudicherà a mille euro Mentre il premio per il miglior lavoro Delle scuole sarà di 500 Domani pomeriggio alle 16.30 In questa stessa sala La giuria si riunisce Preceduta a Don Paolo Gasperini Proprio per visionare I 12 film finalisti Che sono arrivati un po' da tutta Italia Ma soprattutto dal nostro territorio comunale Questo ci fa molto piacere La giuria stessa Sceglierà i due film da premiare E la sera di venerdì 10 aprile All'istituto alberghiero di peso Durante la cena di gala Verranno premiati i due lavori Che hanno conquistato La non edizione di corto e mangiato Renato Claudio Minardi Ha presentato ufficialmente Ieri la sua candidatura Consigliere della Regione Marche Oggi la candidata Per il Movimento 5 Stelle Rossella Accoto Ha chiesto le sue dimissioni Da Presidente del Consiglio Del Comune di Fano Per evitare che con i soldi Del suo stipendio istituzionale Faccia campagna elettorale E ritorniamo a occuparci Delle scritte Degli imbrattamenti Nei monumenti E nei muri Della nostra città L'associazione Regresso Arti D'accordo con l'ufficio tecnico Del Comune di Fano Ha cancellato oggi La scritta contro le forze Dell'ordine Comparsa la settimana scorsa All'anfiteatro Rastad Sul lungomare di Sassonia Ha ripulito inoltre L'imbrattamento Di stampo anarchico Su una cabina in spiaggia Eseguito probabilmente Nella notte a cavallo Tra l'1 e il 2 aprile E per il quale è stata Sporta denuncia Contro ignoti Il Presidente dell'Associazione Franco Cenerelli Invita la cittadinanza A segnalare Quanto prima Eventuali atti vandalici All'amministrazione comunale Perché in questo modo Si potrebbero agevolare Le indagini Svolte a individuarne Gli autori La violenza domestica È il tema Al centro di due incontri In programma Il 9 aprile A Fano Alla Mediateca Montanari E il 16 aprile Alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro Gli appuntamenti Organizzati dalla psicologa Ospedaliera Di Marche Nord Si intitolano Oltre le ferite del corpo Lo psicologo Accoglie le donne Vittime di violenza Con inizio alle ore 16 Vedranno gli interventi Di operatori sanitari Del pronto soccorso Le psicologhe Le assistenti sociali Ospedaliere Le forze dell'ordine E le psicologhe Del centro antiviolenza Provinciale E a Fano Fervono i preparativi Per il quinto Campionato nazionale Di scacchi In programma Per il prossimo Fine settimana Alla Marina De Cederai Vediamo Con oltre 200 giocatori Per torneo Provenienti da ogni parte D'Italia Fano torna ad essere La capitale degli scacchi Dopo il successo Delle prime quattro edizioni Tornano dal 10 al 12 aprile Prossimi I campionati italiani Rapid Lampo E semilampo Caratterizzati da un gioco Veloce E spettacolare La manifestazione Che si svolgerà All'attenso struttura Palagei Messa a disposizione Dal partner Marina De Cesari E' stata presentata Questa mattina Dall'assessore al turismo Stefano Marchegiani Da quello allo sport Caterina Delbianco E dal presidente Del circolo Scacchi Fano Dario Pedini Il presidente Ha sottolineato I pregi sportivi Turistici E la grande visibilità Per la città di Fano A livello nazionale E internazionale Ma anche i benefici Che può apportare A tutte le fasce di età Dai più piccoli Agli anziani Come metodo Per tenere allenata La mente E ritardare O ridurre I rischi Di malattie Come l'Alzheimer I benefici Sono di due tipi Uno comportamentale Perché sviluppa L'attenzione La concentrazione E la disciplina E direi anche Il rispetto Delle regole Della legalità E dall'altro Invece Da un punto di vista Mentale Apportando benefici Di che tipo Ad esempio Il calcolo matematico L'analisi Delle varianti La pianificazione Strategica Ed organizzativa E poi anche La gestione Dei rischi E del tempo Che sono due componenti Delle partite Di scacchi In torneo All'evento Non mancheranno I grandi maestri Della nazionale Maschile e femminile Il torneo di Fano Si conferma Come la manifestazione Con maggior monte premi In Italia Quest'anno Sarà di 18.000 euro Una parte in danaro E una parte in natura Come elettrodomestici Una scacchiere in marmo E gioielli A confermare Il suo contributo È stata L'amministrazione cittadina Che sosterrà Anche la Colle Marathon E il torneo Internazionale di tennis Questo è un evento Veramente Che rende Fano Una capitale scacchistica E quello che rimprova I fanesi Che un po' Chi lo conoscono Quindi è un invito A partecipare All'altri giorni Qui a Marina dei Cesari Perché lo sport Degli scacchi È veramente affascinante Come dicevamo oggi Veramente i ragazzi Si abituano A ritornare al gioco Degli scacchi E non quindi ai videogames O al computer O alla tv Quindi è una capacità Di intelletto Che ti viene fuori Insieme agli scacchi Noi ci teniamo molto Lavorarci anche con le scuole Io ringrazio veramente Dario Pedini Che oltre ad essere Un organizzatore E anche un grande campione Torna da una manifestazione Sportiva Quindi porta il nome di Fano In giro per il mondo E questo degli scacchi È un evento internazionale E ci tenevamo a sostenerlo Una piccola cifra Mi rendo conto Assieme agli scacchi C'è il torneo internazionale Di tennis Che si svolge a luglio E la quale maraton Che si svolgerà il 3 maggio Quindi questi sono gli eventi Che il comune ha scelto Di sostenere Bene Bello vedere i ragazzi Che non solo davanti A una console Ma anche davanti A un gioco così antico Come gli scacchi Continuiamo a parlare Di eventi Sarà la parola cura A fare da filo conduttore Ai due appuntamenti In programma La memo di Fano Per la rassegna Con le parole giuste Giovedì 9 aprile Alle ore 17 Verrà proiettato il film La doppia vita di Veronica Che anticiperà L'incontro pubblico In programma Invece giovedì 16 aprile Alle ore 18 Con Lucia Giudetti Quarta E Alan Pampallona In occasione Della quale I rispettivi autori Presenteranno il libro Anche le parole curano Moderatore dell'incontro Saranno Norberto Damario E in rappresentanza Della magistratura Ci sarà Giacomo Gasparini Giudice del Tribunale Di Pesaro Art del Pettegules È la commedia In vernacolo Che concluderà La rassegna teatrale Cianfrusaglia Del 2015 È la commedia L'arte del Pettegules Scritta da Francesco Mirisola Con la regia Di Simone Diotalevi A chiudere Il 13, 14 e 15 Aprile prossimi La rassegna Di teatro Dialettale Cianfrusaglia Edizione 2015 Sul palco Con inizio spettacoli Alle ore 21 e 15 Tornano i dieci Interpreti Del vernacolo fanese Della compagnia El Burdet Attori in grado Di travolgere il pubblico Del Politeama Con una commedia In cui l'uso della parola Diventa un gioco Leggiadro Un cast internazionale Abbiamo addirittura Due pesaresi quest'anno Quindi per la pace nel mondo Uniamo i due territori Abbiamo gente che viene Anche da Ponterio Gente che viene da Bellocchi Proprio un'integrazione totale Addirittura anche una ragazza Una new entry che viene dall'America Una biondona che spolverizzerà Il Politeama Da domani giovedì 9 Partirà la prevendita al Politeama Dalle ore 18 alle 19.30 Mentre da sabato 11 aprile Con orario 9.12 e 16.19 Noi siamo lì ad aspettare Speriamo che siate numerosi Volevo fare una considerazione In questo momento di difficoltà economiche Il biglietto costa 12 euro Sono due atti, due tempi Quindi 6 euro per tempo Se uno già ride 10 volte E 60 centesimi a risata Ride 20 volte e 30 centesimi Quindi più ridete e meno vi costa Non ci si compra più niente A quel prezzo lì Quindi approfittate Ridete più che potete Ebbene Grasse risate quindi In previsione Col vernacolo fanese E allora Parte domani L'iniziativa Sindaco per un giorno La luna Giorgia Chiala Baldarelli Che frequenta la quinta B Dell'istituto Olivetti di Fano Affiancherà il sindaco Massimo Seri In tutti i suoi appuntamenti Amministrativi Di domani Giovedì 9 aprile A partire dalle 8.15 Quando dalla scuola Si recherà in municipio Fino a sera Quando sarà riaccompagnata A casa E Chiara Naturalmente parteciperà Insieme al sindaco Seri Anche all'appuntamento Con Fano TV Che si terrà appunto Domani sera E vi ricordo appunto Che domani sera Torna primo cittadino Quindi il sindaco di Fano Massimo Seri Sarà nei nostri studi Appunto affiancato da Giorgia E potrete contattare La nostra redazione Per intervenire in diretta Chiamando lo 0721 861433 Oppure mandare un sms Anche con un whatsapp Al 338 4968250 Quindi se avete domande Da rivolgere a Giorgia E al sindaco Seri Potete appunto Telefonare O mandare un whatsapp E allora Prima di salutarci Vi ricordo Gli appuntamenti Che seguiranno Questa edizione Di Occhio alla Notizia C'è una puntata Di Guarda Chi C'è Poi seguirà Uno speciale Backstage Degli Sbancati E la finale Del trentesimo Campionato Invernale Del pallavolo Del CSI Bene Grazie per essere stati In nostra compagnia Il telegiornale Tornerà se vorrete Domani sera Alle 8.30 puntuali Bene Buon proseguimento Con i nostri programmi E buona serata a tutti voi Grazie a tutti i nostri programmi Grazie a tutti i nostri programmi